Proseguono le ricerche di un sommozzatore che da domenica mattina non è più riemerso dalle acque del lago d'Orta. L'uomo stava effettuando un'immersione ricreativa insieme ad alcuni amici nello specchio di lago dinnanzi al porticciolo di Oira, nel comune di Nonio. Sul posto i vigili del fuoco di Verbania e del distaccamento volontario di Omenia. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.